Il giorno e la storia. Oggi è il 27 febbraio. 1991. Guerra del Golfo. Il presidente Bush annuncia che il Kuwait è stato liberato. 1933. Berlino. Brucia il Reichstag. 1960. Muore Adriano Olivetti. Commenta il fatto del giorno Paolo Possamai, direttore di Il mattino di Padova. Cos'è il riflesso condizionato? Ce lo ha spiegato Ivan Pavlov.